a dove siamo? 270 a dove siamo? Stasera c'è un po' di ambiente serio, noi mosci del campionato, si sente che lo stadio Stasera c'è un altro Guarda l'elicottero Sono da piano gentilore, adesso loro quando arrivano come prima cosa vengono in campo Vengono in campo, non è perchè? Mi invece che ci si rosa N Sean's aree non and iki Oh, tu mi sono a cambiare Cos'è' nazione di Liverpool Cos'è' nazione di Liverpool Grazie. 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 Namaskar. Grazie. 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 Grazie, grazie. Grazie. ma quello sta scendendo si è riempito il settore loro si è riempito io non ve lo so, devo spentolare il penone si sta scendendo a me quello interessa è bellissimo quando c'è la canzone non so non è la canzone non so non è la canzone come on Grazie. 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 Carlo Cattrulli Marcello Stairs Marcelli 민 Marcelli 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 . Belli Ora gold O' laonglazione Comune A o' B Buongiorno! Vite! 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 C'è solo l'Ige C'è solo l'Ige C'è solo l'Ige Per me C'è solo l'Ige C'è solo l'Ige C'è solo l'Ige Per te Bellissimo Bellissimo I portuguesi sono diventato 7 ore E sta bene Buongiorno Impressionante Impressionante! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.